Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca sindacale perché allo stabilimento Fimer di Teranova Bracciolini oggi è stata una lunga giornata. Prima un incontro al mattino tra un rappresentante del CDA e i sindacati e le istituzioni, poi nel primo pomeriggio un'assemblea con tutti i lavoratori. Sentiamo questo primo servizio. Un presidio da domani presso il Tribunale di Arezzo e venerdì 28 aprile, uno sciopero generale di otto ore di tutti i lavoratori. Questo è stato deciso al termine di un'assemblea di fronte allo stabilimento Fimer di Teranova Bracciolini in provincia di Arezzo. L'avvertenza che va avanti ormai da un anno e in mezzo non si sblocca la crisi finanziaria che sta attraversando l'azienda, al momento non trova soluzione. Di logica ne ha sempre avuta poca perché è un'azienda che è dentro processi di transizione energetica, cioè la Fimer o comunque questo stabilimento è rimasto l'unico in Italia a produrre inverter fotovoltaici e in Europa credo siamo rimasti in due, poi sono andati tutti a produrre in Cina un Oriente o comunque non in Europa. Questa mattina l'incontro con un rappresentante del CDA che assieme a sindacati confederali e istituzioni si è seduto ad un tavolo per rispondere alle preoccupazioni di tutti, risposte al momento che non consentono di mettere la parola fine all'avvertenza. Qui ci vuole la concretezza perché qui ci sono famiglie, persone che campano solo con questo stipendio, cioè siamo tante persone e in casa entra solo questo stipendio, è una garanzia, è una vita che lavoriamo qui dentro e ci sta sbriciolando proprio ci va via il futuro proprio, la certezza di tutto. Due i fondi di investimento che avrebbero presentato la loro offerta per rilevare l'azienda. I due nomi che sappiamo ma che diciamo non c'è una conferma ufficiale sono un fondo che si era già avvicinato tempo fa che è Clementi e l'altro fondo che è quello che alcuni fanno risalire direttamente è soggetto McLaren, altri ci diano sia una finanziaria e si occupa poi dopo delle politiche della McLaren che è Greybull che avrebbero presentato l'offerta esclusiva vincolante. Dopodiché se sono entrambi affidabili ma qualcuno aveva già scelto in precedenza un fondo non si capisce perché siamo di nuovo nella fase dove si è perso questa affidabilità e in un'altra tempistia si rimettono in discussione tutte e due perché se no ci sono degli elementi che a noi sfuggono. Presso il Tribunale di Arezzo è nata una procedura di concordato. Entro il 28 aprile l'azienda dovrà comunicare quale delle due offerte è stata accettata. Nell'ordinanza che ha emesso il Tribunale c'è che la proprietà e il CDA debbano esprimere un parere sulle due offerte ma se questo non avviene io non vi do la sicurezza che il Tribunale si possa pronunciare o imponendo un'offerta piuttosto che un'altra o amministrazione è straordinaria o fallimento. Io mi auguro che il Tribunale prenda una posizione. L'unica cosa che noi possiamo fare come organizzazioni sindacali e lavoratori è quello di mettere il Tribunale nella condizione di poterlo fare come andando sotto al Tribunale. E allora il tempo è davvero scaduto così ha detto il delegato consigliere di Eugenio Gianni quindi della Regione Toscana per lavoro e crisi aziendali Valerio Fabiani che ha fissato un'altra scadenza il 5 di maggio. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Lei ha detto entro il 5 maggio si trovi una soluzione. Perché questa data? Perché noi abbiamo una data fissata dal Tribunale che è il 28 di aprile e quella è la deadline che ha stabilito il Tribunale e che l'azienda è chiamata a rispettare. Siccome è stata palesata la possibilità di prendere ulteriori giorni per fare eventuali approfondimenti noi abbiamo voluto mettere un solco invalicabile che è il 5 maggio su cui l'azienda si è impegnata e noi naturalmente vigileremo affinché questo impegno venga rispettato perché non c'è davvero più tempo a disposizione. Ora oggi è stato fondamentale ricevere questa rassicurazione sul pagamento degli stipendi però sappiamo bene che ci sono stati problemi nel pagamento dei fornitori, delle aziende dell'indotto e perché questa avvertenza va avanti da troppo tempo e vale la pena ricordare che si tratta di un'azienda che opera in un comparto di grande crescita, interesse dal punto di vista del mercato. Questo paradosso deve essere superato al più presto. L'azienda vi ha detto proprio testualmente che chiederà altri giorni al Tribunale? No, però non ha escluso questa ipotesi e noi come si dice nel dubbio abbiamo ritenuto comunque di fissare una data che per noi non può essere superata in nessun modo. Certo mi sento di esprimere una preoccupazione, il timore è che prima o poi la vicenda precipiti verso un fallimento e questo naturalmente è l'elemento che dè sta preoccupazione che ci spinge appunto a dire diamoci una tempistica certa e facciamo bene ma facciamo anche presto. E siamo alla cronaca controlli nei cantieri, sono sette alla fine le persone denunciate dai carabinieri che sono intervenuti assieme al gruppo forestale del nucleo ispettorato del lavoro. I controlli si sono concentrati ad Arezzo e a Cortona. Cinque le persone denunciate ad Arezzo per inottemperanza delle norme di sicurezza, due a Cortona per mancata vigilanza. Torniamo sul caso delle due mamme di Anghiari, lo ricorderete, erano arrivate addirittura fino al Tribunale e poi si erano viste negare la maternità dei loro gemelli perché una delle due li aveva partoriti pur essendo stati generati con gli ovociti della compagna appunto non gli era stata riconosciuta questa maternità e allora avevano iniziato il percorso per richiederne l'adozione. Adesso i servizi sociali hanno detto sì, c'è quindi attesa per l'udienza in Tribunale. Arriva il via libera degli assistenti sociali che dicono sì all'adozione. Si tratta di un primo ma fondamentale passo in avanti nella vicenda che vede protagoniste le due mamme di Anghiari. La loro storia era emersa nel giugno scorso, poco dopo la nascita dei loro figli, due gemellini. Solamente una delle due donne, quella che li ha partoriti, è stata però riconosciuta giuridicamente. Da qui la battaglia in Tribunale ad Arezzo che si era conclusa con il parere negativo del collegio giudicante a causa di una lacuna normativa. La vicenda delle donne è particolare. Una infatti è la madre biologica in quanto suo lovulo fecondato in una clinica spagnola, mentre l'altra è con lei che ha partorito nel giugno 2022 ad Arezzo i due gemellini. La mamma non riconosciuta aveva così deciso di intraprendere la strada dell'adozione. Adesso gli assistenti sociali che hanno preso in carico la sua richiesta hanno dato parere positivo. Il percorso della coppia, al fianco dell'avvocato Ramona Borri, prosegue davanti ai giudici del Tribunale dei Minori di Firenze. L'udienza nella quale probabilmente entrambe le donne saranno ascoltate dal giudice deve ancora essere fissata. All'indomani della liberazione, questa mattina il Cinema Eden ha ospitato la proiezione di un docufilm sull'eccidio di Civitella. Posso dimenticare tanti particolari, ma non posso dimenticare quei momenti, quei visi, quelle facce, quei morti, tutto quel sangue, quegli occhi che ti sbarrati nella morte, che ti guardano e non capisci perché, quelle grida disperate, quel fumo degli incendi, quelle donne disperate con tutti i morti accanto, questo non lo posso dimenticare. Il dramma dell'eccidio di Civitella in Valdichiana raccontato tra video e parole. Mio padre non fu ucciso dentro il paese, fu fuori del paese. Nell'assertamento che pescero fuori, li portarono giù a un ponte lungo la strada e li ammazzarono una quindicina. L'altra guerra è il docufilm che racconta una delle pagine più tristi della storia del territorio aretino, con lo sterminio da parte delle truppe nazisse di oltre 200 civili di ogni età. Una cosa che ho capito con questo documentario è che tutti sappiamo che c'è stata la guerra, ma lo capisci davvero quando realmente c'è una persona che l'ha vissuta e te lo racconta. È lì che veramente lo capisci. Può sembrare una cosa strana, ma in parte è vero. Una ricostruzione storica che fa affidamento anche sulle testimonianze di Idabalò e dello scrittore Santino Gallorini. È una storia che bisogna ricordarla per l'efferatezza di queste azioni tedesche, per cui bisogna che le giovani generazioni sappiano che cosa porta la guerra, che cosa portano le dittature. Il docufilm è stato proiettato al Cinema Eden all'indomani dell'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un'iniziativa che ha visto il coinvolgimento anche degli alunni degli istituti cittadini come occasione per tenere viva la memoria e il ricordo tra le giovani generazioni. Un richiamo alla memoria di quelle che sono state le vicende vicine a noi, perché appunto Civitella, come San Polo, come altre vicissitudini della Resistenza sono qualcosa ancora di tangibile nel nostro territorio e credo che sia importante che i giovani possano sentire questa vicinanza di situazioni e di storie che si sono verificate proprio qui. Credo che sia fondamentale allacciare la realtà, la vicinanza delle cose con la storia e con i valori, altrimenti si perdono nel tempo. E proprio i parenti delle vittime hanno tempo fino al fine di giugno per presentare una richiesta di risarcimento. Per farlo ovviamente c'è bisogno di assistenza legale e la messa a disposizione un'associazione del territorio. Sentiamo. Un servizio di assistenza e consulenza legale per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del regime nazista. Ad averlo attivato è la sezione di Arezzo dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che facendo affidamento sulla collaborazione con l'Avvocato Luca Testa sarà a disposizione dei cittadini per effettuare le richieste di risarcimento per i crimini commessi dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Il governo di prima ha messo una cifra di 55 milioni per ristorare, per ristoro a tutti coloro che sono stati danneggiati. Le vittime civili o i loro eredi potranno avere accesso ad un fondo istituito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze a condizione di presentare la domanda entro mercoledì 28 giugno. Tutti coloro che intendono fare questo, attivarsi per fare questo ristoro, possono venire alla nostra associazione e che noi poi li inviamo allo studio dell'Avvocato. Un'importante donazione questa mattina presso l'ospedale del Casentino che renderà le colonscopie, un esame indubbiamente insomma piuttosto fastidioso, più confortevoli grazie appunto a questo macchinario, un dispositivo che permetterà ai medici di lavorare meglio proprio nella prevenzione dei tumori del colon retto. La strumentazione è stata donata dal Comitato Casentinese per la lotta contro i tumori e per la vita alla endoscopia digestiva dell'ospedale di Bibbiena. Avere a disposizione questa apparecchiatura, affermano i medici, migliora la qualità dell'esame diagnostico e terapeutico. Sono circa 1600 gli esami che vengono eseguiti all'anno appunto nell'ospedale casentinese. Rimaniamo in tema sanitario perché a distanza di oltre tre anni da quel marzo 2020 che tutti ricordiamo presto potremmo dire addio alle mascherine. Verso l'addio alle mascherine anche negli ospedali e nelle RSA potrebbe essere infatti il 30 aprile l'ultimo giorno in cui si potrà accedere alle strutture sanitarie soltanto con un dispositivo di protezione sul volto. Grazie. Il dispositivo di protezione anti-covid diventato ormai il simbolo della pandemia potrebbe invece restare obbligatorio nei reparti con pazienti fragili e in quelli di cure intensive. un pomeriggio di prevenzione informazione screening sulle infezioni sessualmente trasmissibili è stato promosso dal comitato Arcighei di Arezzo in collaborazione con i medici delle malattie infettive. È in programma per sabato 29 aprile tra le 15 e le 18 presso la sede dell'Arci di Arezzo in via Montanara 22. Sarà possibile sottoporsi in forma assolutamente anonima e gratuita ai test rapidi per HIV e sifilide che in pochi minuti grazie ad una sola goccia di sangue permettono di rilevare la presenza di anticorpi. Sarà anche possibile ricevere informazioni o prenotare il vaccino contro il cosiddetto vaiolo delle scimmie e conoscere le ultime novità sulle profilassi preesposizione oltre che ricevere cancelling su tutto ciò che riguarda la salute e il benessere della sfera sessuale. Siamo adesso invece a parlare delle iniziative in questo caso per il ponte del primo di maggio perché a Cortona la fiera del fiore e del rame raddoppiano. Saranno due giorni ricchi e intensi dove appunto Cortona diventerà un giardino a cielo aperto con una decorazione meravigliosa che renderà ancora più onore alla città etrusca. A Cortona il centro storico si trasforma in un giardino ed accoglie vivaisti ed artigiani. Per il ponte del primo maggio raddoppia infatti l'appuntamento con la fiera del fiore e del rame. L'appuntamento tradizionale del primo maggio quest'anno in accordo con l'amministrazione comunale e il Consiglio dei Terzieri vedendo anche l'opportunità del calendario abbiamo deciso che venissera addoppiata. Un'occasione delle migliori per proporre il centro storico di Cortona ai tanti turisti, a tanti visitatori proponendo al meglio quindi le esposizioni, le piante e fiori dei florovivaisti cortonesi, l'arredo giardino e soprattutto la tradizione del ferro battuto che chiaramente non può mancare. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio per tutto il giorno saranno presenti gli espositori delle attività florovivaistiche che con i loro allestimenti decoreranno le tre piazze cortonesi, Garibaldi, Repubbliche e Signorelli. Assieme a queste ci saranno anche i produttori di rame lavorato. Saranno due giornate molto intense per tutto il centro storico, abbellite da giardini floreali con numerosissimi operatori sia del territorio cortonese ma anche del territorio limitrofo nonché di numerosissimi artigiani del rame che verrà esposto come tradizione nel centro storico di Cortona. Raduno dei bersaglieri a San Giovanni Valdarno, inaugurazione del Monumento al Bersagliere. Sono due i giorni di eventi, sabato 29 e domenica 30 aprile, che saranno ospitati appunto a San Giovanni Valdarno. Sarà un momento importante per tutta la comunità sangiovannese, ricorda il sindaco Valentina Vadi. Sono soddisfatta e orgogliosa che anche il nostro comune avrà appunto un monumento dedicato al bersagliere in un luogo simbolicamente legato a Piero Sanzoni. Saranno due giorni di manifestazioni ed eventi che culmineranno proprio con l'inaugurazione. Domenica mattina 30 aprile a cui, dice il sindaco, invito a presenziare tutta la cittadinanza. Il 30 di aprile invece in Piazza Grande tornerà l'edizione 2023, la prima peraltro, come sappiamo, sono due all'anno di foto antiquaria. Torna foto antiquaria il 30 di aprile, anche questa insomma una manifestazione storica che da poco è entrata nella gestione di Arezzo in turno. Sì, torna foto antiquaria il 30 aprile, la prima delle due edizioni previste nell'anno. È una manifestazione che potrebbe sembrare particolarmente di nicchia, e in effetti lo è, però è una manifestazione che comunque porta quel turismo interessato a questo tipo di evento in città. e seppur piccola, seppur non come la fiera antiquaria con 200 espositori, ma quindi un numero molto inferiore, diciamo che ha il suo bel perché all'interno del centro storico. Ecco, organizzata da voi e in collaborazione con lo storico fotoclub La Chimera, che insomma cerca casa, mi risulta. Mi risulta anche a me, sì, la foto antiquaria la organizziamo noi come Arezzo in turno, è una delle manifestazioni dirette. Stiamo pensando anche di dare una sistemazione diversa a foto antiquaria per far sì che si possa anche sviluppare nel tempo, perché ripeto, è una manifestazione che ha successo, ma è un successo evidentemente limitato a quelli che sono i numeri che porta. Vedremo nel tempo se riusciremo a trovargli una collocazione migliore. Ecco, magari anche una fruizione più ampia di questi archivi che non solo il fotoclub La Chimera, ma insomma tutti i fotoclub di Arezzo hanno, è un patrimonio forse ancora, appunto, non dico sottostimato, è sicuramente sottutilizzato quello sì. Sicuramente è sottutilizzato, sicuramente gli andrà trovata una sistemazione adeguata. Poi come tutte le cose, fin quando ci sono quei soggetti che portano avanti certe iniziative è molto più semplice. Venendo meno, come dire, il creatore originale di questo progetto, le cose un po' si complicano, ma vedremo di renderle meno complicate, più semplici. E proprio la concomitanza con Foto Antiquaria aveva fatto dire no al Comune di Arezzo, a Piazza Grande, come location per i festeggiamenti della promozione in Serie C dell'Arezzo. Il Comune ha trovato nelle scorse ore, in accordo ovviamente con la società Amaranto, un'alternativa, ovvero Piazza della Libertà, la piazza che sostanzialmente divide i due palazzi degli antipubblici aretini, quindi Palazzo Cavallo per il Comune e il Palazzo della Provincia di Arezzo. L'accordo è stato ufficializzato proprio nel tardo pomeriggio di oggi. Prima dei festeggiamenti, calciatori, staff e dirigenza saranno ricevuti nella sala del Consiglio Comunale, dove l'amministrazione consegnerà loro una targa ricordo per celebrare questo successo. Ed infine chiudiamo con una notizia che invece riguarda l'Olmo Ponte. Dovevano essere 24 le formazioni ai nastri di partenza dell'Arezzo Cup, il torneo di calcio giovanile organizzato dall'Olmo Ponte, ma visto l'alto numero di adesioni, il passaggio a 32 è stato naturale. Il tutto grazie alla collaborazione con l'Arezzo Football Academy, che presterà i suoi campi proprio all'Olmo Ponte. L'appuntamento è nel secondo fine settimana di giugno, dal 9 all'11. L'Olmo Ponte ha deciso però di raddoppiare non solo le partecipanti, ma anche il numero dei tornei dal 27 al 28 maggio. Arezzo ospiterà il torneo Città di Arezzo. Si svolgerà sulla base di sei gironi di tre formazioni ciascuno, con la partecipazione di otto club professionistici under 11 e 10, invece dilettantistici under 12. L'Arezzo Cup non sarà soltanto un evento di sport, perché la società riproporrà anche l'appuntamento con il premio Arezzo, la terra dei grandi, che vedrà la consegna e dei riconoscimenti quest'anno al primario Massimo Resti, direttore dell'azienda ospedaliera Meyer, alla giornalista Sara Benci, a Daniele Bennati, il CT della selezione azzurra di ciclismo, agli avanzi di Balera, e a Guglielmo Manzo, presidente dell'Arezzo, proprio per festeggiare il ritorno del cavallino in serie C. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e arrivederci.